10 minuti di lavoro con esercizi di riscaldamento muscolare, mobilizzazione, cardio leggero e preattivazione. Un'ottima sessione da svolgere prima di un allenamento intenso. Vamos! Ok, iniziamo. Circonduzione braccia in avanti. Iniziamo con questo super riscaldamento. Mi raccomando, non saltate mai riscaldamento fondamentale prima di iniziare ogni nostro allenamento. Circonduzione ampia. 3, 2, 1, cambio. Circonduzione indietro, movimento un pochino più lento, ampio. Andiamo a scaldare tutta la parte alta del corpo, le spalle, deltoidi, trapezzi, braccia. Scaldiamo bene bene tutto, vai. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Circonduzione delle spalle in avanti. Movimento controllato. Scaldiamo bene le spalle. Movimento circolatorio in avanti. E poi cambiamo con la circonduzione delle spalle indietro. 3, 2, 1, vai. Cambio. Dietro. Controllo il movimento. Testa dritta. Circonduzione delle spalle indietro. Respiro. Naso. Bocca. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Allargo un pochino le gambe. Torsione del tronco. Vai. Andiamo ad attivare il tronco. Attiviamo il core. Respiro. Movimento lento. Senza forzare. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Discesa a fianchi al ginocchio. Allargo. Larghezza spalle. Scendo piano. Testa dritta. Attiviamo ancora tutta la parte centrale. Scaldiamo. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Discesa frontale su gamba alternata. Allargo. Mani unita. E scendo. Vai. Respiro. Vai. Ancora. Attiviamo tutto il corpo. Facciamo il riscaldamento completo. 3, 2, 1. Mezzo squat e spinta gamba sinistra. Vai. Solo la spinta della sinistra. Mezzo squat accenato. Spinta gamba sinistra. Vai. E poi cambiamo gamba. Ancora. 3, 2, 1. Spinta gamba destra. Vai. Vai. Respiro. Naso e bocca. Scaldiamo anche tutta la parte bassa. Glutei. Gambe. Quadricipide femorale. Vai. E respiro. 3, 2, 1. Cambio. Mezzo squat. Allargo le gambe. Mezzo squat. È uno squat appena accennato. Scaldiamo bene gambe e glutei. Vai. Vai. Respiro. Non mi fermo. Vamos. 3, 2, 1. Spostamento laterale. Mano e piede opposto. Vai. Prima da una parte. E poi dall'altra. Respiro. e allungo. E allungo. Vai. Da una parte e dall'altra. Ancora. 3, 2, 1. E cambio. Step touch. Spostamento a destra e sinistra. Respiro col naso. Espiro con la bocca. Respirazione. Scaldiamo bene tutto il corpo. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Skip. E ginocchio. Vai. Skip. Ginocchio. Skip. Ginocchio. Iniziamo a lavorare bene sulla parte bassa. Alzo bene il ginocchio. Respirazione. Ancora. 3, 2, 1. Poi incrociato. Vai. A destra e a sinistra. Attiviamo l'addome. Lavoriamo sulle gambe. Spostamento della gamba e pugno. Scaldiamo bene tutto il corpo. Reattività. 3, 2, 1. V-step. Vai. 2, passi aperti in avanti e 2 passi chiusi dietro. Vai. Apro, apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo. E respiro. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Ginocchio su. Lavoro sulla sinistra. Vai. Sincronizzo il movimento braccia e gambe. Vai. Genocchio su. Solo sinistro. E poi cambiamo sul destro. Ancora. 3, 2, 1. Destro. Dall'altra parte mi giro. Vai. Sincronizzo il movimento braccia e gamba. Appoggio e salgo. Appoggio e salgo. Vai. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Cambio. Step touch. Mi sposto a destra e sinistra. Respiro. Scaldiamo bene tutto il corpo. Ancora. 10 secondi. E andiamo su mezzo squat. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Allargo le gambe. Mezzo squat. Squat leggermente accennato. Lavoro sulle braccia. Testa dritta. Attiviamo tutta la parte bassa. Gambe. E glutei. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Calciata dietro. Vai. Vai con la calciata dietro. Porto i taloni al gluteo. Respiro. Sempre respirazione naso e bocca. 3, 2, 1. Slanci gluteo sinistra. Vai. Slancio dietro. Tocco e slancio. Tocco e slancio. Respiro. Attiviamo il gluteo. Vai. Respirazione. Ancora. 3, 2, 1. Cambio gambe dall'altra parte. Mani sui fianchi. Equilibrio. Gamba frontale leggermente piegata. Vai. Respirazione. Attiviamo il gluteo. Ancora. 3, 2, 1. Vai con la calciata. Calciata dietro. Respiro. Naso. Bocca. Naso. Bocca. Vai. Esercizio successivo. Slancio in avanti solo sinistro. 3, 2, 1. Vai. Slancio in avanti solo sinistro. Salgo. Passetto. E salgo. Vai. Passo. avanti e tocco la punta. Avanti e tocco la punta. Vai. Ancora. 3, 2, 1. E cambio sulla destra. Vai. Passetto. Slancio destro. Passo e slancio destro. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Sali e tocco la punta. Sali e tocco la punta. 3, 2, 1. Cambio. Calciata dietro. Vai. Respiro. Mantengo la calciata dietro. Tallone ai glutei. Lavoriamo tutta la parte bassa. Vai. Esercizio successivo. Step touch. 3, 2, 1. E cambio. Step touch. Vai. Mi sposto. Destra e sinistra. Respiro. Testa dritta. Cambiamo poi con la calciata più step touch. Respirazione. Vai. 3, 2, 1. Calciata e step touch. Calciata e step touch. E poi cambiamo lato. Respiro. Pam. 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 Ancora. Respirazione. Ritmo. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Pam. Pam. E continuo. E respirazione. E attivazione della parte bassa. Colombo. Coordino il movimento. Respiro. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. Piego. In arco. In arco. In curvo la schiena. Vai. La testa segue il movimento naturale della schiena. Vai. In arco e in curvo. Ancora. Ok. Il tuo riscaldamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos. In arco e in arco e in arco e in arco.